Io vengo con molto entusiasmo, ho visto l'andamento non brillantissimo fino a poco fa che quando giocavo nel Padova. Quindi da parte mia c'è sicuramente molto entusiasmo e voglio di fare bene. A buon modo anche di dire prima ai vostri colleghi, da quando gioco a Padova e ho affrontato i Varesi in questi anni, la cosa che ha sempre contraddistinto questa squadra è la forza del gruppo e mi ricordo che sono sempre state grossissime battaglie con molte incavolature anche in panchina con un po' tutti come mi sembra in questi anni tra playoff e tutto. So quello che possono dare i miei compagni di squadra, anche perché da tanto che ci gioco contro e so il valore di ognuno di loro. Quindi sicuramente sta a noi inserirci al meglio, sono sicuro che loro ci daranno una mano perché sono tutti dei bravi ragazzi e il valore di certo non si può cambiare per due sconfitte fatte in campionato. So benissimo quello che possono dare, la voglia è tanta di mersi a disposizione del gruppo. Il mister mi ha fatto con me e con gli altri, ci ha dato il benvenuto, mi ha fatto due chiacchiere a livello generale. Poi ripeto, noi siamo a disposizione dell'allenatore per qualsiasi cosa, noi avremo sicuramente il nostro periodo di adattamento perché io parlo anche per me, dopo cinque anni cambiare non è stato facile, mi sono trovato in questo gruppo affiatato quindi adesso sta a me inserirmi e mettermi a disposizione.